Transennare l'intero perimetro dell'edificio dell'ex scuola De Amicis, sita in piazza a Mendola, è la richiesta avanzata dal comitato civico e ambientale presieduto da Cosimo Panico. A vent'anni dalla chiusura dell'edificio scolastico, scrive Panico, la struttura versa in uno stato di abbandono tale da farci ritenere necessario un intervento di ripristino o di messa in sicurezza. L'obiettivo è evitare il cedimento strutturale del tetto verificatosi già nel giugno del 2011 che portò alla richiesta di transennamento da parte dei vigili del fuoco. Di qui la richiesta al comune di attivarsi per mettere in sicurezza l'edificio attraverso transennamento dell'intero perimetro in quanto lo stesso non ha espletato tale azione esponendo a pericolo l'incolumità dei passanti.